Da giovedì a domenica il Dialma Ruggero cambia completamente volto, i ragazzi dei laboratori di quest'anno saranno i protagonisti, ma cerchiamo poi di capire come si svilupperanno queste quattro giornate. Con Balletto Civile, Scarti e Norece se fuori luogo proponiamo Valentin Cabaret ispirandoci al linguaggio degli anni 20 e anni 30 di questo grande scrittore e performer che sta un po' alle origini del teatro dell'assurdo, del nonsense e dell'ironia feroce. Vi sorprenderemo con l'allestimento di Valentin Cabaret, utilizzeremo diverse modalità linguistiche che vanno dal teatro alla danza alla coreografia alle musiche, quindi noi speriamo di riuscire a proporre grazie all'energia e alla forza dei corpi dei ragazzi che come tutti gli anni ci danno grandi soddisfazioni sul piano artistico e sul piano delle relazioni che siamo riusciti in questi quattro anni a stabilire con le scuole, con i ragazzi, con i genitori, con le famiglie e con tutto l'entourage di fuori luogo. Qual è stata la tua esperienza all'interno di questi laboratori? Allora, io sono partita come un'attrice che faceva un ruolo secondario e piano piano con gli anni, grazie comunque alla mia passione, cosa che amo tanto è il teatro, e all'amicizia che si è creata con comunque il gruppo attoriale, non siamo solo amici ma siamo diventati proprio una famiglia, piano piano sono spiccata come tanti altri ragazzi all'interno del gruppo. La cosa particolare di questo laboratorio è che ti crea sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista morale, interiore e soprattutto dal punto di vista umano. Ti fa collaborare con persone che non sono nella tua realtà ogni giorno e ti fa diventare amica con tutti. Da attore sei diventato un membro dello staff, come ci sei arrivato? Con il passare degli anni ho cominciato a interessarmi sempre di più a questa strana malattia che è il teatro. Non sono più riuscito a uscirne e quindi anche la compagnia degli scarti e gli organizzatori hanno capito il mio interesse e mi hanno infilato dentro a questo mondo.